Applausi Compagni e compagne, amici e amiche, Ateniesi, lo dico con emozione perché la parola stessa evoca l'origine della nostra democrazia. Atenies, sîntrofis e fiilles, athinai, sîntrofis e fiilli, to leo afto me sînginisi perché a tia i lèxi thimisce la nostra democrazia. Applausi E per me un piacere e un honore essere presente qui con voi all'apertura di questa campagna elettorale così importante. Importante per tanti motivi. In primo luogo perché è indispensabile, tanto più in un momento difficile, drammatico come questo, per una città come Atene e Pireo per un territorio come Lattica, poter contare su amministratori onesti, competenti, sensibili ai bisogni, alle sofferenze e alle domande del proprio popolo, capaci di interpretarle e di battersi con tutta la forza che hanno per imporre le soluzioni giuste come Reina, come Gavrilli, come Theodoris. Prens Per uno, per una città come un piccolo, soprattutto a una bollicata e drammatico come una piccola che la giusta di athena e o Pirea, per una ori come un piccolo come i Anis. Per una minaccia come un piccolo, una città come un piccolo, una città come ad inti, una città come ilfortico, una città come il Terre, una città come l'amitura, una città come un piccolo, alle le sono i lunga la città come lì, come il regno, a un'amitura e il lo, favorissimo. In secondo luogo perché ai segnali politici che provengono dalla Grecia guardano in tanti in Europa, perché qui stanno le radici della nostra civiltà, della civiltà europea, del nome stesso di Europa, fatto che troppo spesso l'Europa delle banche e dell'austerità di mentica o tradizce. Secondo, perché le politiche che provengono dalla Grecia a molto interessano a Europa, perché qui ci sono i rischi del politismo, del politismo europeo, dal stesso nome dell'Europa, generalmente il caso che in Europa, in cui la Grecia, oggi, con le sue sofferenze, con le ingiustizie devastanti, con lo stato di povertà di troppa parte della sua popolazione, è il simbolo vivente delle pessime politiche della cosiddetta Troica, di quelle che sono considerate dai poteri che oggi guidano l'Europa medicine, ma sono in realtà veleni mortali, che anziché risanare il corpo social e ne determinano la morte. Grazie. 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 e il governo capace di imporre una svolta a una situazione altrimenti disperata. Anche per queste ragioni ho l'orgoglio e il piacere di comunicarvi che anche in Italia sta nascendo una lista per le elezioni europee e anche obiettivo la candidatura di Alessis Tsipras alla guida della Commissione europea. Per questi ragazzi ho l'esperienza e l'agrazione che anche in Italia c'è un'attività per le elezioni europee che ha iniziato con l'attività di Alessis Tsipras nella legge della Commissione europea. Una lista della società civile aperta, costruita dal basso con la partecipazione di tutti i movimenti, partiti, cittadini che vogliono imporre una svolta drastica nelle politiche europee in nome della solidarietà dell'eguaglianza del rifiuto della logica dell'austerità per una politica partecipata con il dominio della tecnocrazia e basata sul lavoro e sui servizi pubblici. Penso alla chiusura della vostra rete televisiva pubblica ERTE e al collasso di una decina di università tra cui l'Università di Atene anzi che sulla finanza per non dire della sanità pubblica con la distruzione dell'eopi un' appassi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.